Non è stato Matteo Salvini a denunciare Roberto Saviano, ma il ministro degli interni. . Cambiamento sostanziale, seppur solo di forma, che sta a dimostrare tutto il peso politico che il leader della Lega, vuole usare per effettuare un'operazione di questo genere. Il tutto su carta intestata del Viminale è presentata in quanto ministro dell'Interno. . La denuncia, pubblicata integralmente dall'UfPost, è stata depositata nella giornata di oggi, assicurano fonti del Viminale, anche se nel foglio di presentazione della Questura di Roma è scritta la data del 20 luglio. . Si tratta solo di un errore di battitura. Il riferimento dell'acquarela per diffamazione a mezzo stampa sono le affermazioni dello scrittore, in una serie di post, allegati, e dichiarazioni che, secondo Salvini, vanno oltre il diritto di critica, e la fisiologica polemica politica. . A partire da quel ministro della malavita che usa parole da mafioso con cui l'autore di Gomorra bollò il ministro dell'Interno, che aveva adombrato l'ipotesi che gli venisse tolta la scorta. . Continua dopo la foto, frasi che, non solo a giudizio di Saviano, ma di un intero mondo culturale, suonavano come un allentamento della cultura dello Stato, che ha il dovere di proteggere chi è minacciato. . Nello stesso intervento Saviano critica il ministro dell'Interno perché da Codardo non ha detto niente contro l'Andrangheta e non ricorda i legami tra Lega Nord e l'Andrangheta. Parole che, si legge nella denuncia, generano così la convinzione che il ministro dell'Interno, anziché combattere la malavita organizzata, scenda a scelerati accordi con la criminalità organizzata stessa, calpestando così i propri compiti istituzionali, il che va oltre il diritto di critica, mancando qualsivoglia indice che denoti la sussistenza di patti tra il ministero dell'Interno. . Continua dopo le foto, il post di Saviano, dunque recerebbero un danno non a Matteo Saldini, in quanto leader politico, ma all'istituzione stessa che più di ogni altra ha il compito di combattere le organizzazioni criminali. . È un atto duro. Compiuto nella veste formale del capo del Viminale, non di leader politico. . Verso uno dei simboli della lotta alla mafia, sotto scorta per le minacce dei casalesi. . Una scelta senza dubbio opinabile. Quella di Salvini, di usare la carica ufficiale, per effettuare quella che, per inciso, è una denuncia tra due persone. Un leader politico contro un giornalista. . Continua dopo le foto, e se è pur vero che un ministro è pur sempre una persona, e che la giustizia è uguale per tutti, allora è pure vero che Saviano, almeno in teoria, dovrebbe ambire ad un processo equo e dignitoso, sempre se di processo parleremo. . Insomma? Quella di Salvini, sembra l'ennesima trovata vera e propria, ma chi lo sa davvero, ti potrebbe anche interessare. . . . . . . . .